Questa settimana parliamo di funghi. Qualche piccolo pratico consiglio intanto sulla pulizia. Allora, i funghi possono essere puliti in acqua, sì, velocemente, sotto l'acqua corrente. Funghi coltivati come questo, come uno champignone, è possibile lavarli senza metterli a bagno, ovviamente, senza metterli a mollo. Per quanto riguarda funghi un pochettino più delicati, che possono essere questo tipo di funghi o altrimenti dei porcini, è bene sempre andare con un panno umido e con un coltellino a raschiare la terra nei punti più, diciamo, carichi e sporchi. Una cosa che mi sento assolutamente di dirvi è che il fungo, una volta cotto, non deve essere necessariamente bianco cadaverico, quindi utilizzate il limone giusto per la cottura, non mettete troppo limone, altrimenti poi mangiate limone e non mangiate più funghi. Per quanto riguarda invece chi ama consumarli a freddo, per insaporirli sicuramente potete utilizzare come variante, diciamo, alla solita limonette, vinaigrette, che utilizzarete sicuramente. Degli infusi, quindi potete fare degli infusi con zenzero, rosmarino, basilico anche, è molto buono, o mettere anche all'interno delle verdure, tipo peperone. Questo infuso, fatto esattamente come fate un tè o una tisana, lo lasciate riposare, una volta freddo lo spruzzate sopra i funghi tagliati a fettini fine fine. E sicuramente avrete una nota di aroma totalmente diversa e un gusto diverso con cui mangiare i vostri funghi. Prossimo consiglio, prossima settimana cosa sarà? Chi lo sa, seguiteci, rimanete sempre in contatto con noi e vedrete. Chi lo sa, seguiteci, rimanete sempre in contatto con noi e vedrete.